Sì, la parola! Duale! Preparo la trappola! Non so dire! Non potete scontrare. Potrebbe esservi proibito di tornare. La priorità è liberare i prigionieri per tenere occupati i trussons. Devi cercare un terminale di sicurezza. Sì, cazzo! Trenata in arrivo! Il bersaglio mi viene addosso! Il terminale di sicurezza deve essere vicino. Guardati intorno. Terminale attivo rilevato. Promette bene. Trovalo e collegaci l'ISAC. Sono dentro. Per aprire le celle... Ecco, celle aperte! Azzurro! Grazie. 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 Ho appena perso contatto con la camera della zona di detenzione. Non vedo più niente. Grazie. 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 Grazie.